ora stiamo finendo la nostra bicicletta di due parti del programma non so parli di un menù per le nocce lo che possiamo andare è a te uon del salad bar sta molto benissimo c'è un giorno passato la nostra team, Randall Corson, Big Ben e Big Ben a crèm vim per a capè e di due parti e parranda di fin di anno di Randall Corson & Friends un tabai comissà a ora qui SIGRE GOSA